Ciao a tutti, io sono Gaia e sì, lo so, questo non è il maneggio di sempre, lo so, benissimo. Allora, un tempo il maneggio era, lo sapete, dove qualcuno vuole fare nomi e cognomi, per sbaglio, per sbaglio, ha buttato via tutto. Quindi ora io sto andando a ricercare le cose, tipo ho trovato questa, che era della camicia, questo che è carino perché c'è tipo un zebra. Che si affaccia al buchino e c'è il canino. Oh, che carini. Allora, qua tipo è, non so, tipo dove si ambientano i puledri, dove sono Ciuffetto, Roxy e Zebra, che parla col cane. Quello è l'altro canino, panna che beve, poi questa, queste qua l'ho riprese e questa non l'ho buttata via perché probabilmente, vabbè, piano piano ricostruisco il campo, tutto, lo so, ci sono rimasta male anch'io. Tanto. Però, è da così. Allora, voglio fargli vedere un po' com'è. Allora, so che intanto è qui, sulla schivagnaca è brutto, però intanto troverò dei posti, cioè, per ora è qui perché è piccolo, poi troverò un posto bello grosso che non sa quello prima, ecco ora c'è stata, c'è un'altra cosa lì. E, lo metterò tipo su, credo, lo metterò in un posto, via. Allora, qui c'è l'alberino, quello c'è anche prima, più, qui c'è questo della giacca, con dentro celestia e, non mi ricordo più, qui c'è il ciuffetto, Rox e Zebra che dialogano con il cane, i cani non hanno nome, io dovrò dare. Qua ci ha, cioè, sì, qui, qua ci ha, vabbè. Qui abbiamo Leila, due canini che non hanno nome, ah, Deep, lui, e Sky, ecco. Allora, come per le stalle belle c'è War, Kinder e Magnum, poi vorrei fare una cosa, no? Questo ferro che è insieme al maneggio, si intona col colore qui, ci puoi vedere la classe, eh? Vabbè, via, lo so. Questo ferro è il maneggio, ci sono rimasta male anch'io, dovevo rifare il campo, il malazzino, tutto. La segretica, forse riesco a recuperarlo, forse. Poi, aspettate un secondo. Allora, per concludere in bellezza, ma poi in belle lozza, sì. Allora, consigliatemi cosa posso prendere per fare stalle, campo, come puoi fare. Comunque questa mi piace molto, perché è trasparente e carina. E ora, però, devo finire, devo salutare qualche persona. Allora, saluto. Orts, Sklach, 003. Cavalli, Sklach. Auri, Orts, 06. E Flick, 03. Ciao a tutte. Commentate se questo maneggio, per ora, mi piace, consigli, su roba che potrei usare per fare le stalle, il campo, perché non mi metti a fuoco. Ecco, perfetto. E, dovete avere un po' di pazienza, perché, lo so, sono andata anch'io. Sto, piano piano, ricostruendo. Tipo, a Indio c'era solo questa. Poi ho recuperato queste due. Sono andata, ho cercato, tutte le volte, questa l'ho trovata. Mentre nella giacca, ho detto, ho cambiato i toscani, questo weekend. E questa era delle scarpe di mia sorella, delle... SS, io non so che scarpe sono. Vabbè. Comunque è carina. Datemi consigli, è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.